Vi siete mai chiesti come si vive in una casa dotata dei più avanzati sistemi di climatizzazione, produzione di acqua calda domestica e ricircolo e purificazione dell'aria? Beh, io sì e immagino anche molti di voi. Oggi avremo la possibilità di scoprirlo passando un po' di tempo in una moderna smart biohouse equipaggiata con i più moderni sistemi cleavet smart living, ma anche visitando una soluzione abitativa bifamiliare degli anni 70 ristrutturata mantenendo un impianto a radiatori. Per non perdermi nemmeno un dettaglio mi farò ovviamente aiutare da chi queste case le vive tutti i giorni, ma anche da alcuni rappresentanti di cleavet, perché chi meglio di loro può conoscere i prodotti di cui parleremo. Siete curiosi? E allora iniziamo perché c'è davvero tanto da dire! Anzitutto parliamo di questa biocasa realizzata con un sistema prefabbricato e dotata di un telaio in legno con isolamento in fibra di legno e cappotto in lana di roccia che permette di abbattere il fabbisogno energetico rispondendo ai più alti standard di isolamento. Ovviamente al momento della progettazione l'obiettivo del proprietario era quello di ottenere una casa che fosse il più possibile autonoma dal punto di vista energetico e che garantisse il massimo del comfort tutto l'anno. In questo particolare caso per raggiungere l'obiettivo è stato installato un sistema completo cleavet in cui tutti gli elementi sono progettati per dialogare tra loro e essere gestiti da un unico controller centralizzato che permette di ottimizzare le risorse a disposizione dando sempre priorità a quella più conveniente in termini di sostenibilità energetica. Questo sistema è basato su quattro elementi il primo è la pompa di calore Sfera Evo 2.0 con tecnologia inverter e gas refrigerante R32 a basso impatto ambientale. Questa si occupa del riscaldamento e del raffrescamento tramite impianto radiante ma anche della produzione di acqua calda sanitaria con un accumulo da 250 litri. Si passa poi al sistema di rinnovo e purificazione dell'aria con filtro elettronico integrato che è efficace su nanoparticelle, PM10, fumi, virus, batteri e anche polini. Sarebbe un tocca sana per le mie allergie. Il sistema prende il nome di Elfo Fresh Evo e si occupa anche del recupero termodinamico attivo dell'energia contenuta nell'aria espulsa. Questa unità viene usata come generatore principale nelle mezze stagioni e in estate nel trattamento dell'aria agisce indirettamente andando anche a togliere l'umidità. Alla pompa di calore e al sistema di rinnovo e purificazione dell'aria sono poi abbinati i sensori di umidità e temperatura in ogni stanza per gestire al meglio i parametri di riscaldamento, raffreddamento e deumidificazione in ogni singolo ambiente. E infine abbiamo il cervello di tutto questo, ovvero il controller centralizzato Control for Energy ovvero il sistema che analizza tutti i dati ricevuti e regola riscaldamento, raffrescamento, qualità dell'aria in tutta la casa e anche la produzione e l'uso dell'energia. In aggiunta a questi quattro elementi ma comunque fondamentali per raggiungere l'autonomia energetica della casa abbiamo infatti pannelli fotovoltaici da 5 kilowatt con una batteria per l'accumulo da 15 kilowattora che permette di non sprecare o immettere nella rete l'energia prodotta dai pannelli e allo stesso tempo di avere una buona riserva di energia per i momenti in cui l'impianto fotovoltaico non produce. E ovviamente abbiamo anche l'app Cleavet Eye che ci permette di controllare tutto questo comodamente dal nostro smartphone anche da remoto, quindi anche quando siamo fuori di casa. Ma chi meglio di Andrea, proprietario di questa casa e che in questa casa ci vive tutti i giorni può raccontarci da dove nasce l'idea di realizzare una casa ecologica come questa e di dotarsi di questi sistemi. L'idea nasce una decina di anni fa visitando la fiera Clean House di Bolzano che ha come tema la sostenibilità ambientale e le abitazioni in bioedilizia. E da lì un desiderio poi è diventato man mano realtà finché abbiamo deciso di realizzare questa casa in bioedilizia quindi in materiale riciclabile o comunque rinnovabile a basso impatto ambientale. Ok Andrea, e ora che questi sistemi sono pienamente in funzione, come ti stai trovando? Siamo pienamente soddisfatti perché quelli che erano dei desideri iniziali si sono poi avverrati e la casa effettivamente ci garantisce un comfort ideale tutto l'anno e un risparmio energetico molto importante. Bene, allora ringraziamo Andrea e noi ci spostiamo di qualche chilometro perché vi porto a vedere un altro esempio virtuoso di applicazione dei sistemi Cleavet Smart Leading. Ed eccoci qui alle mie spalle, questa bifamiliare sempre in provincia di Belluno che differisce in maniera sostanziale dalla precedente perché si tratta di una soluzione abitativa degli anni 70 ristrutturata in due step con il sistema Cleavet Smart Leading. Parliamo di due appartamenti, uno al pian terreno e uno al primo piano entrambi di 76 metri quadri che in origine erano riscaldati con una caldaia a gasolio da 35 kilowatt utilizzata per scaldare l'acqua per i sanitari ma anche per i radiatori e quindi il riscaldamento. La ristrutturazione è stata pensata per raggiungere due obiettivi ridurre il consumo energetico e migliorare la qualità dell'aria ma anche aumentare l'efficienza energetica mantenendo però il sistema radiatori e aggiungendo il raffrescamento estivo. Per raggiungere questi due obiettivi il proprietario è intervenuto in due fasi grazie al sistema Cleavet Smart Leading che è progettato per poter essere implementato in maniera incrementale nel tempo. Nel 2023 nella prima fase della ristrutturazione insieme al cappotto e al fotovoltaico da 6 kilowatt con accumulo da 15 kilowattora è stato installato il sistema di rinnovo dell'aria Elfo Fresh Evo con distribuzione Elfo Air sfruttando il contributo del 50% per le ristrutturazioni edilizie. In seguito nel 2024 è stata sostituita la caldaia condominiale con due impianti autonomi ciascuno dei quali composto da una pompa di calore monoblocco Edge F da 4,5 kilowatt termici con refrigerante naturale R290 e accumulo per acqua calda sanitaria da 300 litri. La pompa di calore al piano terra viene usata per il riscaldamento in abbinamento ai radiatori già esistenti e per la produzione di acqua calda sanitaria. Quella installata al primo piano dove in estate fa più caldo viene invece utilizzata anche per il raffrescamento estivo grazie all'aggiunta di due fan coil CFW alimentati con acqua immandata a 7 gradi. Grazie alla modularità del sistema Krivet Smart Living che come appena detto può essere installato anche in diverse fasi il proprietario ha potuto raggiungere tutti i suoi obiettivi migliorare l'efficienza energetica della sua abitazione abbattere i costi di gestione migliorare la qualità dell'aria ed avere il comfort ottimale anche nei mesi più caldi. La sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento si è inoltre elevata molto veloce la nuova tecnologia Propano che garantisce alta efficienza anche con acqua ad alta temperatura ha reso possibile la sostituzione della vecchia caldaia a gasolio con le pompe di calore pur mantenendo il sistema di distribuzione a radiatori. Ma chi meglio del proprietario di casa può raccontarci come si vive con un sistema Krivet Smart Living. Alberto, dimmi un po', sei soddisfatto dei lavori? Come si sta a vivere in una casa con un sistema Krivet Smart Living? Ciao, sì, sono molto soddisfatto. Siamo riusciti a raggiungere un'efficienza energetica che era quella a cui ispiravamo perché abbiamo sostituito una vecchia caldaia a gasolio abbiamo creato un impianto in pompa di calore abbiamo un rinnovo dell'aria che ci permette di vivere con una qualità dell'aria assolutamente importante all'interno dell'abitazione avendo anche una moglie allergica non ci sono più questi problemi e quindi sono molto soddisfatto del risultato ottenuto. I tempi di installazione sono stati velocissimi e Krivet Smart Living diciamo che mi sta veramente aiutando molto nel trovare l'autosufficienza energetica. E ci sono altri elementi che vorresti aggiungere in futuro alla tua configurazione? Sì, assolutamente sì è stato un lavoro fatto in due diversi step prima rinnovo dell'aria, ora la pompa di calore prossimamente andrò ad installare e configurare il Control for Energy che mi permetterà di gestire l'intero impianto di casa in maniera efficiente ed efficace. Ok Alberto, grazie mille, è stato un piacere A te, è stato un piacere, ciao! Ok, ma ora che abbiamo visto due applicazioni pratiche ma ben diverse tra loro delle tecnologie Krivet Smart Living andiamo a vedere dove vengono prodotte e progettate. Da oltre 35 anni Krivet produce pompe di calore e sistemi per il comfort domestico come quelli che avete visto in azione nelle abitazioni poco fa. Krivet è parte del gruppo Midea e anche grazie ai suoi investimenti è diventato leader di mercato in Italia ma anche in Europa. In questo stabilimento vengono prodotti sistemi che abbiamo visto poco fa installati all'interno delle soluzioni abitative ma non solo, in particolare infatti in queste linee vengono prodotti sistemi per i grandi impianti come ad esempio gli ospedali, il cinema, i centri commerciali e le grandi aziende. E queste invece sono le linee dove vengono prodotti sistemi per il residenziale ovvero quelli che abbiamo visto installati all'interno delle abitazioni. Ma all'interno dello stabilimento Krivet non troviamo solo la produzione. Quello dove ci troviamo ora è il nuovo Innovation Center dove vengono studiati, progettati e testati nuovi sistemi. Ma ce ne parla meglio Dario. Le macchine che avete visto installate prima di essere messe in commercio vengono testate da noi nelle condizioni reali di funzionamento. Non testiamo solo le piccole unità come quelle che avete visto ma nel nuovo Innovation Center testiamo anche le macchine grandi come questa. Macchine fino a 2 MW e in condizioni di temperature estreme da meno 20 fino a più 60 gradi. E per chiudere ci siamo spostati solo di qualche centinaia di metro ed ecco la Krivet University, un'area che forse in pochi si aspetterebbero di trovare all'interno di un'azienda ma che in realtà dà un'immagine nitida della serietà e della professionalità di questa realtà. La formazione dei professionisti che collaborano con Krivet è infatti fondamentale per poter garantire un livello di qualità elevato e costante al cliente. Proprio in questo spazio e nelle altre sedi in Italia e nelle filiali estere ogni giorno vengono tenuti corsi di formazione sia tecnica che pratica. Bene, e con la University chiudiamo questa nostra immersione nel mondo Krivet. Se siete interessati a qualcosa di quello che avete visto fatecelo sapere qui sotto nei commenti e sapete ora a che porta bussare. Io vi invito anche a leggere l'articolo che trovate linkato qui sotto dove trovate altre informazioni sul mondo delle pompe di calore e del risparmio energetico in generale. Grazie. Grazie.